Questa allianza transatlantica ha valori comuni, la democrazia, i diritti umani, il governo al servizio dei cittadini e con questa allianza può riuscire a realizzare la sua degna missione. Quindi dal punto di vista dei valori, dal punto di vista della cooperazione internazionale, di affrontare sfide e nuove minacce in comune, io vedo questa allianza molto forte e va oltre di un'amministrazione.